Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare questo trucco qui, è un trucco che ho fatto con la palette della Kiko di 10.000 collezioni fa, era la collezione Electric Town, io le ho fatto questo trucco simile su questi colori per un video per il talk show Made in Italy, mi è stata richiesta da tantissime, ma a suo tempo non ho avuto voglia di rifarlo, di riprodurlo, magari anche avevo voglia ma non tempo, e quindi oggi ho voluto truccarmi su questi colori, quindi sui colori rosa, verde, no, verde, rosa, blu, azzurro, la palette è questa, ho utilizzato, tutti le palette che ho utilizzato sono qui, sono bellissimi, metallizzati veramente belli, come piacciono a me, vi dico subito che d'ora in poi cercherò di fare dei video un po' diversi, diciamo sempre di trucco, però prima vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzerò e poi vedrete il tutorial, così poi quando io faccio il tutorial non perdiamo tempo a farvi vedere i prodotti, insomma ve li faccio vedere prima, così poi chi vuole utilizzare i prodotti che utilizzo io può vedersi anche la prima parte del video, altrimenti saltarla direttamente al tutorial, utilizzerò quindi la palette della Kiko, questa qui, scusate lo specchio molto molto pulito, utilizzerò questa qui, poi i pennelli, devo farvi una review sui pennelli perché ne utilizzo di diversi e quindi non è il caso di farvi vedere ognuno, comunque durante il video, il tutorial vedrete, comunque io farò vedere, utilizzo questo da sfumatura, utilizzo questo a punta, vedrete. Come blush e terra utilizzerò la mia palette che adoro della Fraulein, come terra utilizzerò questa qui, che è una terra marrone molto scura ma leggermente rosata e come blush utilizzerò questo qui molto Barbie che riprende il rosa appunto della palette, poi per la bocca utilizzo niente matita correttiva perché vuole un look fresco sulla bocca, utilizzo della Elf il Potty Petal che io adoro, se mi conoscete sapete che è un colore che adoro perché è fantastico, questo qui è un rosa stupendo, vedete che è veramente bello, poi niente vado a fissare con il Fix Plus, spero che il tutorial vi piacerà, spero che vi piacciono anche i miei capelli, nel scorso video li avete visti conciati in un modo un po' strano, insomma il taglio è questo in realtà, ecco, è uguale all'altro che avevo fatto circa 2-3 mesi fa, solo che è un po' più corto e col ciuffo questo un po' più lungo, la volta scorsa io mi ero fatta la conciatura un po' particolare, ecco, niente spero vi piaccia e seguite il tutorial, prima di tutto applico la mia base per ombretto, su tutta la palpebra mobile fino all'arcata sopraccigliare, la faccio aderire bene alla pelle e la applico anche sotto, poi con un pennello abbastanza ampio come questo, vado a prendere il rosa e lo applico sulla palpebra mobile senza toccare le estremità, quindi in modo centrale diciamo, tiro leggermente perché io ho le rughette, lo sapete, sulla palpebra. quindi copro bene tutta la palpebra, la parte centrale della palpebra lasciando libero l'inizio e la fine. Vado a prendere un pennello abbastanza preciso, utilizzerò questo qui a punta, è di un vecchio set della Navy Makeup e prendo il color azzurro e lo applico nella parte iniziale dell'occhio, facendolo diciamo incontrare il rosa. Li sfumo leggermente insieme in questo modo. Dopodiché prendo il blu e vado ad applicarlo in questo modo qui, scusate ma non l'avevo ripreso, l'applico così grossolanamente senza andare troppo oltre il limite dell'occhio, quindi in questo modo, e che va ad abbracciare leggermente il rosa. Ora prendo un pennello per sfumare, come questo, e vado a sfumare il blu mettendolo dentro la piega dell'occhio, lo sfumo insieme al rosa con movimenti circolari e vado a sfumare anche la fine. Tiro un po' indintro e faccio e do la mia forma. Tiro e do la forma. Quando il blu va a ricongiungersi con il rosa diventa molto più chiaro, vedete è quasi un lilla, quindi voi potete prendere il blu con il pennello sempre da sfumatura, proprio la puntina, e andare ad intensificare il blu. Tirate un pochino più in fuori se vi piazza di più la forma dell'occhio un po' più allungata e andate avanti a sfumare finché non avete un risultato che vi piazza. La sfumatura, lo sapete, il segreto è la sfumatura e la pazienza, quindi dovete andare avanti a sfumare finché non avete il risultato che volete. Ora prendo un pennello da sfumatura ancora, questo pulito, e vado a sfumare la parte interna dell'occhio dove avevo messo l'azzurro, verso il blu, verso l'alto quindi, e sfumo anche i limiti del blu, per non avere un limite netto che non mi piace. Dipende il trucco ma qui non mi piace. Quindi sfumo. Prendo un altro pennello da sfumatura pulito e prendo il bianco, l'illuminante, e lo applico sia nella cata sopraccigliare, unendolo direttamente col blu, sia nella parte iniziale dell'occhio, tirando verso l'azzurro e poi anche tirando in giù leggermente. Poi prendo un pennellino a punta, molto preciso, vado a prendere il colore blu e lo applico sotto la rima inferiore delle ciglia, sotto le ciglia inferiori. Non lo applico fino a all'inizio dell'occhio, soltanto nella, diciamo, tre quarti della rima della palpebra inferiore, così. Con un altro pennello a punta, oppure lo stesso pulito, prendo un pizzico di rosa e vado ad applicarlo nella parte che mi è rimasta libera della palpebra inferiore. Ora prendo un pennellino angolato con il colore blu, scuro, e vado a tracciare una linea come abbondantemente. Passo al viso e applico con un pennello angolato un pizzico di terra rosata. È un marroncino rosato. Come blush vado a prendere un rosa molto tenue, un rosa Barbie. Poi con questo pennello che mi piace moltissimo per il blush vado ad applicarlo. sfumo insieme blush e terra. Vado ad applicare il rossetto sulle labbra, che tengo molto naturali. È un rossetto ma sembra quasi un gloss. Il trucco è finito. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!